150 nomination in 16 categorie, una serata di festa in puro stile Gen Z. A Milano sono andati in scena i Web Awards 2023, una notte degli Oscar dedicata ai migliori creator italiani. Una manifestazione nata 4 anni fa e che quest'anno per la prima volta è arrivata dal vivo con uno show di proclamazione. Sono arrivati 5 milioni di voti da parte della community e quindi c'è stata una fortissima partecipazione da parte di quella che è considerata ed è la community principale sulla generazione Z. Siamo riusciti a intercettare quelle che sono le preferenze della nostra community per arrivare a proclamare quelli che sono stati i creator più amati dell'anno. Da Chiara Ferragni a Mattia Stanga, passando per Elisa True Crime e la musica di Rosa Chemical, i Web Awards 2023 hanno celebrato il talento e le qualità di tantissimi tiktoker, youtuber e influencer che si sono distinti nell'ultimo anno su Instagram, tiktok, youtube e twitch. I creator e i talent affascinano la generazione Z perché sono un po' lo specchio dei tempi, sono un po' la rappresentazione di quello che è il sogno dei teenager e quindi potercela fare partendo dal zero. Oggi davvero sono delle vere rockstar, sono considerati i veri idoli da parte dei ragazzi e Webbo è riuscito a raccontarli nel migliore dei modi. 350 gli ospiti dell'evento della prima community italiana della generazione Z parte di Mondadori Media con un risultato che ne conferma la capacità di intercettare il suo pubblico. I contenuti legati ai Web Awards hanno infatti raggiunto 35 milioni di persone.